Il cantiere ormai è una catturana del deserto, addirittura ci sta crescendo una vegetazione aliena, non si sa neanche che roba sia se guardate le piante. È tutto fermo, tutto. Nulla è cambiato da quando, ormai oltre due mesi fa, avevamo raccolto la preoccupazione dei residenti di via Fabio Filzi, anzi, quello che era il cantiere per la realizzazione della nuova caserma della Polizia Municipale, ormai è diventato un luogo facilmente accessibile. Una questione è entrata adesso in Consiglio Comunale con un'interrogazione presentata dal consigliere del PD Alessandro Caneschi al sindaco Ghinelli, con la quale ha chiesto di conoscere il destino dell'immobile e l'aggiornamento sulla risoluzione del contratto con il raggruppamento temporaneo di impresa, proprietario e gestore del cantiere. L'assessore a cantieri strategici per la città Marco Sacchetti ha spiegato che la risoluzione del contratto è già avvenuta, questo sta generando una copiosa corrispondenza legata al procedimento di escussione. Da un punto di vista giuridico ha sottolineato l'immobile attualmente non è un cantiere né di proprietà né nella disponibilità dell'amministrazione comunale, aspetti che configurano un problema nel problema. Mi dicono, aggiunge, che l'area è di nuovo abbandonata per cui compieremo sopralluoghi propedeutici all'emissione di eventuali ordinanze per impedire che le criticità comportino degrado e pericoli. La cosa più naturale, conclude, sarebbe ovviamente riacquisire l'edificio e portare a compimento il progetto. I lavori, iniziati nell'ottobre 2021, avevano subito una battuta d'arresto lo scorso aprile. Alla base dello stop ci sarebbero motivi economici tra cui il caro Materie Prime e approvvigionamento energetico.